La partita contro Catani è stata una partita un po' particolare, le cose non sono andate bene in primo tempo, non siamo entrati bene, però questo non significa che la squadra non c'è, non c'è il spirito, non significa che non c'è la compattezza di squadra. Tutti siamo concentrati sul nostro obiettivo che è di arrivare il 40 punti più presto possibile, però secondo me il primo tempo di Catani è stato una piccola parentesi. Sicuramente vogliamo e dobbiamo fare meglio di giro di andata, sicuramente dobbiamo fare meglio. Noi guardiamo in queste ultime 13 partite di campionato, ogni partita a singolo, ogni partita ogni volta, prima c'è la partita contro Fiorentina, speriamo che giochiamo, che la neve non si lascia giocare, perché siamo pronti e ci lavoriamo bene per questa partita. Dopo vediamo cosa succede, come lavoriamo contro Cagliari, però il nostro obiettivo è adesso la partita contro Fiorentina, come ha detto prima sicuramente dobbiamo fare meglio di giro di andata, perché con 18 punti anche in giro di ritorno non si salva. Allora questo è un grande obiettivo di nostra parte, però vediamo questa partita contro Fiorentina. Non cambia niente, Fiorentina ha buoni giocatori, tanti giocatori bravi, però anche noi abbiamo tanti giocatori, noi dobbiamo valutare ogni situazione di loro gioco, però dobbiamo guardare anche noi stessi come dobbiamo attaccare, come dobbiamo pressare in tutte le zone di campo, però non c'è una grande differenza a chi non gioca. Sì, sicuramente è un gran giocatore, è un giocatore importante per Fiorentina, però secondo me Fiorentina ha anche altri giocatori importanti di coprire il suo ruolo. Sicuramente Fiorentina in questo momento gioca secondo me uno dei calci più belli in Italia, però ci prepariamo bene per affrontare questa partita con grande spirito e con grande forza.